Sono arrivato alla banda di Sesto nel 77 e ho trovato una buona banda. Ero in seguito al maestro Arcangelo Scarton che conoscevo già da tempo anche perché era amico di famiglia del papà ed è stato mio testimone alle mie nozze. Con la banda di Sesto ho fatto, o perlomeno spero di aver fatto tante cose belle, soprattutto da quando ho cominciato con la collaborazione di Dario Benaglia. Abbiamo cercato di rinnovare sia il repertorio sia gli strumenti. Siamo passati da un repertorio classico bandistico, vale a dire le solite marcette, marce sinfoniche, servizi religiosi, siamo passati a della musica più vivace, come dire, musica americana, musica jazz. Abbiamo cercato di rinnovare il repertorio introducendo anche il basso elettrico e la batteria. L'uscita più importante che ricordo è l'uscita a Radicofani. C'erano due componenti della banda originale di quel paese e ci hanno invitati là e abbiamo fatto una, come dire, gita e conoscenza del paese di Radicofani. L'anno prima di lasciare ci siamo combinati per fare un concerto anche con la banda di Sesto che io avevo già preso come maestro in quanto il papà aveva lasciato la banda di Angera. Per cui ci siamo combinati con Angera e Sesto le due bande. Più abbiamo messo assieme quattro corali di Angera, Ispra, Sesto e Somma e abbiamo fatto concerto in questi quattro paesi a Natale e poi per l'Epifania. Ho lasciato nell'87, ho un buon ricordo della banda di Sesto. Lo porterò sempre questo ricordo.